Questa ragazza aveva un futuro brillante davanti a sé, aveva un'indole artistica, creativa, ed era conosciuta per essere dolce e simpatica. Eppure, in un giorno come tanti, qualcosa avrebbe cambiato per sempre le sorti del suo destino. Amici miei, buonasera, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. Per la storia che voglio raccontarvi questo venerdì ci troviamo a Belmar, in New Jersey, un piccolo comune di poco più di 6.000 abitanti. Si trova leggermente a sud di New York e affaccia sull'oceano atlantico. Nonostante il posto sia piccolo, poco abitato e molto tranquillo, offre un lungomare con molti negozi, ristoranti, attività sportive e vari eventi di musica e intrattenimento. Belmar, inoltre, si trova sul lato sud del fiume Shark, che attraversa il New Jersey per una lunghezza di 18 chilometri. Bene, la storia di oggi comincia proprio accanto a questo fiume bellissimo. Sono quasi le 6 del mattino del 3 dicembre 2016. Un'autista di Uber sta percorrendo il ponte della Route 35. Fuori è ancora buio, ma l'autista sembra scorgere un'automobile accostata al lato della strada. L'uomo pensa immediatamente che fosse stranissimo che a quell'ora una macchina fosse ferma al lato della strada senza nessuno a bordo. Così decide di chiamare subito la polizia. Segnala questa vettura, che è una Oldsmobile di colore argento. Vi metto una foto. Passano pochi minuti e arriva subito una pattuglia. Gli agenti scendono, si avvicinano alla vettura abbandonata e notano che la portiera del guidatore era aperta. E che le chiavi erano ancora nel quadro dell'auto. La macchina non sembrava aver avuto nessun incidente, non c'erano tracce di sangue sui sedili. E tutto sembrava funzionare alla perfezione. Insomma, era come se qualcuno avesse accostato a bordo strada, fosse sceso dall'auto e l'avesse abbandonata lì. Forse un suicidio? Un appuntamento finito male? Dopotutto si trovava sul ponte del fiume. Molto strano. Dopo aver perlustrato la zona e non aver trovato niente, la polizia decide di controllare la targa per risalire ovviamente al proprietario. E così scopre immediatamente a chi apparteneva. Viene fuori che la vettura era di Lillian Stern, una donna di 96 anni, residente a Neptune City, un comune poco distante, a nord di Belmar. La situazione diventa subito molto ambigua, perché sembra quasi ovvio agli agenti che non potesse esserci Lillian alla guida. Così decidono di risalire all'indirizzo di casa della donna e andare a trovarla per vedere come stesse se fosse in casa. Lillian Stern, poco dopo, conferma la versione dei poliziotti. Non era lei alla guida della sua macchina quella notte. La donna infatti era sempre rimasta a casa per tutto quel tempo. La persona che guidava l'auto quella notte era sua nipote, Sarah Stern, una studentessa di 19 anni. E allora, dov'è Sarah? Gli agenti si recano a casa della ragazza immediatamente, ma il mistero che avvolge la vicenda si fa sempre più intenso, perché all'arrivo della polizia si scopre che in casa non c'era nessuno. Dopo aver bussato numerose volte e aver provato a contattare Sarah senza ottenere nessuna risposta, il dipartimento decide di emettere un mandato di perquisizione, così da entrare nella proprietà. E quindi, finalmente, lo ottengono ed entrano subito. In casa c'è un silenzio tombale. Gli agenti procedono con cautela e perlustrano ogni stanza, ma della ragazza non c'è alcuna traccia. Ad accogliere i poliziotti c'è solo un cane, probabilmente quello di Sarah, che era chiuso in una gabbia. Tutto questo appare subito strano agli occhi degli agenti, che decidono di dare l'allarme per la presunta scomparsa della ragazza. Ora quindi facciamo un piccolo passo indietro per fare chiarezza. Chi è Sarah Stern? Cosa stava facendo esattamente quella notte? Sarah è l'unica figlia di Carla e Michael Stern. Chi la conosce la descrive come una ragazza molto dolce, una gran lavoratrice, e un'artista di talento. Studia arti e produzioni televisive al college della comunità locale e intanto sfoggia le sue opere artistiche e le sue fotografie sui social, anche online, comunque nei blog. Spesso le condivide anche con personaggi pubblici che segue e ammira. Partecipa spesso anche a diverse convention del fumetto, come il Comic Con, che sarebbe l'equivalente di un Luca Comics o una Milano Games Week. In sostanza Sarah è molto apprezzata sia dai suoi coetanei che dalla comunità di internet. E quindi, quando quel giorno viene trovata l'auto abbandonata che stava guidando, alcuni noti youtuber postano sui loro social l'avviso di scomparsa e spronano a chiunque abbia notizie di farsi avanti. Sul volantino della scomparsa si menziona anche una ricompensa di 5.000 dollari. Mentre questo strano evento inizia a scuotere la cittadina, gli investigatori decidono di cominciare le indagini, e lo fanno contattando innanzitutto la famiglia e gli amici più stretti ovviamente. Si scopre così che la madre di Sarah era morta di cancro nel 2013 e che la ragazza aveva sempre vissuto e viveva ancora in quel momento con il padre, Michael Stern, che però in quei giorni si trovava fuori città. Ed è per questo che all'arrivo della polizia non c'era nessuno in casa. Mentre le indagini proseguono, un vecchio amico di famiglia, che viveva dall'altro lato della strada, proprio di fronte, decide di farsi avanti e dice di aver ricevuto un messaggio da Sarah il giorno prima della scomparsa, il 2 dicembre. Sarah avrebbe chiesto all'amico di famiglia se poteva portare alcuni oggetti, alcuni vecchi oggetti della madre a casa sua. Richiesta particolare, dato che dalla morte di sua madre la ragazza non aveva ancora buttato via nulla dei suoi oggetti. Forse voleva finalmente chiudere quel capitolo e sbarazzarsi di tutto ciò che le ricordava sua madre, ma comunque è una richiesta particolare a dir poco. Perché avrebbe dovuto sbarazzarsi di quegli oggetti? In realtà questo non è un dettaglio tanto importante, anche se sembra. L'amico di famiglia comunque che conosceva Sarah da quando era piccolo, non esita un secondo e le dice di sì. Sarah quindi prepara un paio di grossi sacchi con alcuni vecchi oggetti di sua madre e si fa aiutare dal suo miglior amico, un certo Liam Mekatasney, in modo da riuscire a portarli tutti a casa dell'altro ragazzo. L'amico di famiglia dice agli investigatori che Sarah quel giorno sembrava giù di morale, ma non era sicuro, cioè non sapeva dire con certezza se fosse il suo stato d'animo abituale o se fosse particolarmente giù solo quel giorno. A questo punto comunque la polizia decide di seguire la nuova pista fornita dal vicino di casa e interroga subito Liam Mekatasney. Quest'ultimo, oltre a essere il migliore amico di Sarah, era stato anche il suo più grande amico d'infanzia. I due infatti si erano conosciuti all'età di sei anni a scuola ed erano cresciuti insieme a Neptune City, che rappresenta per eccellenza la tipica cittadina americana in cui tutti si conoscono, tutti lasciano le porte di casa aperte e così via. Liam, Lee, era noto per essere un ragazzo sempre sorridente e scherzoso, aveva anche un fratello di nome Simus. Comunque gli investigatori decidono di recarsi a casa del ragazzo per raccogliere quante più informazioni possibili e gli chiedono subito se sapesse dove si trovasse Sarah o se avesse avuto comunque sue notizie dal giorno della scomparsa. Il migliore amico risponde agli investigatori dicendo che il giorno precedente al ritrovamento dell'auto i due avevano trascorso il pomeriggio insieme, facendo alcune commissioni, e poi si erano fermati a pranzare da Taco Bell. Oddio che buono è il Taco Bell, peccato che non c'è in Italia, avete mai assaggiato il Taco Bell? Io ve lo consiglio, è un fast food che fa tacos, piadine, strabuono, non c'è in Italia. Comunque successivamente il ragazzo si era recato a casa dell'amica per trascorrere qualche ora insieme per poi andare a lavoro in una steakhouse locale. Liam, durante un successivo interrogatorio, dirà alla polizia che Sarah era spesso giù di morale in quel periodo e aveva menzionato di aver avuto tendenze suicida in passato. Questa testimonianza quindi non fa altro che rinforzare quello che il vicino aveva già dichiarato agli investigatori e fa crescere sempre di più l'idea di un possibile suicidio. Oltre a questo la ragazza aveva avuto anche diversi problemi con il padre a seguito della morte della mamma, problemi che si erano aggravati così tanto negli anni che la ragazza aveva detto più volte di voler andarsene di casa e trasferirsi in Canada. Poco tempo dopo comunque il vicino di casa di Sarah consegna alla polizia il filmato di sorveglianza delle telecamere che aveva puntate sul suo vialetto. In questo filmato si vede che effettivamente la ragazza ha lasciato un grosso sacco nero con tutte le cose della madre a casa sua del vicino ed è poi partita con la sua macchina insieme a Liam. Sia quel filmato sia quello di Taco Bell confermano anche la versione di Liam. Tuttavia c'è un'altra telecamera di sorveglianza presso la banca locale che riprende Sarah mentre si ferma lì dopo il pranzo da Taco Bell. Nel filmato si vede la ragazza che entra in banca, rimane dentro per un po' e poi esce. Insieme a Liam poi si dirige a casa della ragazza e verso fine pomeriggio Liam esce e va al lavoro, al ristorante. Ricapitolando, tutta la cronologia degli eventi corrisponde perfettamente alla versione di Liam tranne la tappa della banca. Alle 23.45 del 2 novembre, più di 6 ore prima del ritrovamento della macchina, la telecamera del vicino mostra l'auto di Sarah che esce di nuovo dal vialetto. Ma dal filmato non si riesce a capire effettivamente se ci fosse lei alla guida oppure qualcun altro, cioè non si capiva proprio chi fosse all'interno dell'auto. Questa comunque è l'ultima volta che Sarah Stern sarebbe stata vista o ripresa, premesso che alla guida ci fosse lei. A questo punto gli investigatori devono seguire l'ultima pista rimasta, decidono di recarsi in banca sperando di ottenere più informazioni possibili. Cos'era andata a fare lì? Perché c'era andata proprio prima di sparire nel nulla? Dopo aver indagato, si scopre che la ragazza aveva avuto accesso alla sua cassetta di sicurezza e aveva preso parte dei suoi contanti che teneva lì. A quel punto, mettendo insieme i soldi presi dalla banca e la situazione ambigua col padre, gli investigatori maturano una nuova teoria, ovvero quella di una possibile fuga. Si inizia a pensare che Sarah avesse avuto l'intenzione di scappare e che poi ci fosse effettivamente riuscita. Ma questa teoria, sebbene probabile, non reggerà a lungo perché quando la polizia chiede di avere accesso alla sua cassetta di sicurezza, scopre che dentro c'erano ancora 25.000 dollari. Questo appare subito molto strano agli investigatori perché se Sarah avesse avuto davvero l'intenzione di scappare e andarsene magari in Canada, come voleva tanto fare, avrebbe sicuramente recuperato tutto il denaro, comunque non avrebbe lasciato 25.000 dollari lì, perché le sarebbero serviti. Ma un'altra cosa strana che colpisce gli agenti è che le banconote presenti all'interno della cassetta erano molto vecchie, il che può sembrare poco rilevante ora ma diventerà importante poi nel corso dell'indagine. Infine un ultimo indizio, barra fatto, che smonta la teoria della fuga di Sarah è il suo cane. La ragazza infatti non sarebbe mai andata via senza di lui, non l'avrebbe mai lasciato a casa. C'era troppo affezionata, veramente era come se fosse suo figlio. La vicenda della fuga quindi non convince per nulla. Gli investigatori tornano a casa di Sarah e perquisiscono camera sua in cui trovano quelle cose che sapevano avrebbero trovato, il suo passaporto e la sua tessera di previdenza sociale. Questa è l'ulteriore e ufficiale conferma del fatto che la ragazza non era andata da nessuna parte, non era scappata. Poco dopo gli agenti vengono a conoscenza del fatto che accanto al luogo del ritrovamento dell'auto di Sarah c'era una videocamera di sorveglianza, il che avrebbe potuto finalmente spiegare che cosa cavolo era successo quella notte. Ma quasi in maniera ironica, proprio quel giorno la videocamera non era in funzione. Si sarebbero potuti risparmiare un bel po' di casini, vi anticipo. Proprio quel giorno specifico non stava funzionando. È assurdo. Così raccolte tutte le informazioni, gli investigatori decidono di lasciare definitivamente la pista della fuga e di riprendere purtroppo quella di un possibile suicidio. Vengono schierati elicotteri e squadre di ricerca sia via terra che via acqua per perquisire il fiume Shark. Dopo 11 ore di ricerca non viene trovato nulla, nessun corpo o nessun indizio che potesse dimostrare la sua morte. E a quel punto tutta la cittadina decide di mettersi in moto per le ricerche della giovane. Centinaia di persone escono per cercare Sara. Tutti vogliono trovarla, a tutti i costi. Sperano tutti quanti che sia ancora viva. Ma purtroppo non viene trovato nulla. Di Sara Stern non c'era più alcuna traccia. Proprio accanto al ponte in cui era stata ritrovata l'auto, si trova il fiume Shark, che poco più in là incontra l'oceano. Per questo gli investigatori iniziano a credere che a causa delle forti correnti, il corpo della ragazza fosse stato trasportato fino all'oceano, il che avrebbe spento tutte le speranze di trovarla sia viva che morta. Quindi la speranza di ritrovare Sara lascia il posto a un grande sconforto generale. Col passare dei giorni sempre meno persone vanno ad aiutare per le ricerche. Passano ben due mesi. Il caso di Sara Stern rimane ancora aperto ovviamente, ma non si trova nessuna nuova pista e nessun indizio che potesse spiegare cos'era successo quella notte. Sara sembrava semplicemente svanita nel nulla senza lasciare nessuna traccia. Ma è a quel punto, quando tutto sembrava perduto e il caso stava per essere chiuso, archiviato, che un ragazzo decide di farsi avanti. Un ragazzo di nome Anthony Curry. Questo si reca dagli investigatori e dice loro che potrebbe avere delle informazioni su ciò che era successo a Sara. Anthony era uno dei migliori amici di Liam e Catasnay, perché avevano entrambi una grande passione in comune, la passione per i film horror. Avevano addirittura in progetto di realizzarne uno insieme, un giorno ovviamente, non subito. Anthony racconta che il giorno del ringraziamento del 2016, quindi otto giorni prima della scomparsa di Sara, i due hanno deciso di pranzare insieme, quando Liam gli ha proposto un'idea geniale a sua detta per realizzare il prossimo film horror. I ragazzi si scambiavano continuamente idee per progetti e film eccetera eccetera, ma questa volta la proposta di Liam ha lasciato Anthony un po' perplesso, era estremamente dettagliata e molto macabra. Infatti gli ha proposto un film in cui la ragazza protagonista viene uccisa strangolata dal suo migliore amico e poi quest'ultimo si sbarazza di lei, gettandola oltre il ponte con l'aiuto di un altro amico, estremamente ambiguo conoscendo la storia, questa storia, conoscendo Sara e conoscendo Liam. La polizia infatti rimane scioccata dalle rivelazioni di Anthony e gli chiede dove si trovasse due mesi prima al momento delle indagini e delle ricerche di Sara, perché non era andato prima da loro? Il ragazzo risponde semplicemente che in quel periodo non aveva dato tanto peso alle dichiarazioni di Liam, soprattutto perché si trattava del migliore amico di Sara e quindi non gli era neanche passato per la mente che potesse esserci una correlazione tra le sue parole e la scomparsa della ragazza. I suoi sospetti sono sorti, sono iniziati a crescere quando Liam, qualche giorno prima, aveva contattato Anthony su Snapchat chiedendogli se i poliziotti avessero parlato con lui, quasi con un tono preoccupato. Lui quindi, un po' perplesso, gli ha risposto di no e gli ha chiesto il perché di questa domanda. Al che Liam non gli ha propriamente risposto, gli ha solo detto che doveva parlargli urgentemente e doveva farlo di persona perché era più sicuro. Ed è solo a quel punto che il giovane è saltato una sorta di campanello d'allarme e ha deciso di recarsi al dipartimento per parlarne con la polizia. Liam aveva già sostenuto alcuni interrogatori con gli investigatori e aveva anche partecipato in prima linea alle ricerche di Sara. Per questo motivo non era mai stato davvero sulla lista dei sospettati. Tuttavia, dopo le dichiarazioni di Anthony, si decide di seguire una nuova pista in cui Liam è il sospettato numero uno. La polizia recupera i video di tutti gli interrogatori avvenuti con il ragazzo e, in particolare, il terzo filmato risulta particolarmente strano per una domanda che Liam aveva fatto agli investigatori. Il ragazzo aveva chiesto loro se era probabile non ritrovare il corpo di una persona che si era buttata da quel ponte, ipotizzando appunto quella cosa delle forti correnti che portano all'oceano. E in quel momento la polizia non è che ci ha dato tanto peso, anzi hanno pensato che potesse essere semplicemente una sua preoccupazione. Una preoccupazione che stava esprimendo così, la preoccupazione di non rivedere mai più la sua migliore amica, di non trovare mai più il corpo, che era una paura che avevano tutti in fondo in quel momento. Quindi una domanda del genere non sembrava troppo strana. Ora che era un sospettato a tutti gli effetti, però, e ora che sapevano quell'idea di quel film horror, le cose erano totalmente diverse. La polizia, tuttavia, decide di non chiamare Liam e di non mostrare assolutamente nessun tipo di sospetto verso di lui. Notano anzi che Anthony aveva un rapporto molto stretto con il ragazzo, per cui decidono di fare un tentativo un po' rischioso, ma che a quel punto rappresentava l'ultima ed unica pista possibile per sapere cosa fosse successo a Sarah Stern. Viene chiesto ad Anthony se fosse d'accordo a partecipare ad un'operazione con la polizia, nella speranza di ottenere una risposta o addirittura una confessione da parte di Liam. Il ragazzo ovviamente accetta. E così il piano viene messo in atto. Anthony chiama Liam e gli chiede in prestito dei soldi per comprare una nuova videocamera che avrebbe poi utilizzato per le riprese di un nuovo film. Gli investigatori gli dicono di fare così, perché in quel momento pensano che se Liam aveva ucciso Sarah, allora aveva anche sicuramente recuperato la parte di denaro che la ragazza aveva prelevato dalla sua cassetta di sicurezza. Anche perché si erano recati insieme in banca il giorno prima della scomparsa. Liam comunque al telefono, dopo la domanda di Anthony, rimane un po' perplesso e risponde quasi balbettando. E dice che sì, forse avrebbe avuto dei soldi da prestargli, ma aggiunge dicendogli che non voleva parlarne al telefono. Gli chiede invece di incontrarsi da qualche parte di persona, perché era più sicuro. Molto strano, no? Quindi, il 31 gennaio 2017, i due si danno appuntamento in uno dei parcheggi della zona. Anthony si reca lì per primo e attende pazientemente l'arrivo di Liam, che lo raggiunge lì qualche minuto dopo. Il ragazzo parcheggia, scende dalla sua auto e sale in quella di Anthony. Quello che Liam non sa è che la polizia stava effettivamente per ascoltare e guardare le intera conversazione tra i due, utilizzando delle piccole telecamere nascoste all'interno dell'auto del ragazzo. E per fortuna hanno usato queste telecamere nascoste perché è la prima cosa che fa Liam quando entra in macchina e chiedere all'amico di poter controllare se avesse dei microfoni nascosti addosso. Anthony rimane stranito, perplesso e poi però gli risponde di sì, di controllare pure. Liam quindi si avvicina e inizia a palpare Anthony in maniera minuziosa alla ricerca di microfoni, ma non trova nulla. Per fortuna veramente che non gli hanno messo dei microfoni ma hanno solo messo queste telecamere. A quel punto Anthony chiede a Liam se avesse i famosi soldi da prestargli, ma quest'ultimo comincia a lamentarsi di non aver ricevuto tutto il denaro che sperava e che quello che aveva non sarebbe bastato per coprire la cifra per la nuova videocamera. Il ragazzo dice infatti che la sua speranza era di ricevere almeno 50.000 o 100.000 dollari, ma che alla fine il compenso si aggirava solo intorno ai 10.000 dollari. Ed è a questo punto che Liam dichiara tutto infatti. Dice ad Anthony che stava pianificando l'omicidio di Sarah da circa 6 mesi. E il motivo per cui lo stava facendo era perché sapeva che la ragazza aveva ottenuto un sacco di soldi a seguito della morte di sua madre. Sarah aveva trovato delle cassette nascoste in casa che contenevano dei contanti. Le banconote erano vecchie, ma ancora utilizzabili, esattamente come quelle trovate nella sua cassetta di sicurezza in banca. Questo è anche uno dei motivi per cui Liam ha espresso la sua paura nel spendere quei soldi. Sarebbe sembrato strano in effetti che un ragazzo giovane fosse in possesso di banconote così vecchie. Banconote tra l'altro molto simili a quelle che aveva una ragazza scomparsa. Cioè, per quello non era proprio titubante sul voler prestare i soldi all'amico, ok? Comunque, in sostanza, quando Sarah aveva trovato le cassette con i contanti era super emozionata, era super contenta e aveva deciso subito di parlarne con la persona più vicina a lei, il suo migliore amico Liam. Gli aveva detto che con quei soldi avrebbe potuto magari trasferirsi in Canada e inseguire i suoi sogni, i suoi progetti. Ma Liam, anziché essere felice come dovrebbe fare un vero amico, ha deciso di sbarazzarsi di lei e rubarle il denaro. Il ragazzo sapeva benissimo di non poter mettere in atto il piano da solo, per questo ha deciso di chiedere aiuto al suo compagno di stanza di nome Preston Taylor. Quest'ultimo era anche un amico molto stretto di Sarah, nonché il suo accompagnatore per il ballo di fine anno. Cioè, vi rendete conto? Il migliore amico e il ragazzo con cui doveva andare al ballo di fine anno le hanno fatto questo? Non vi ho ancora detto cosa, ve lo dico subito. Liam aveva proposto a Preston di aiutarlo con il suo piano e, in cambio, avrebbe ricevuto una parte del denaro di Sarah, ovviamente. All'inizio i due avrebbero fatto ubriacare Sarah, l'avrebbero strancata e poi si sarebbero sbarazzati del corpo. Ma come? Un'opzione sarebbe stata seppellirla in un campeggio di proprietà del padre di Liam, in modo che anche durante le fasi di ricerca nessuno avrebbe mai potuto perlustrare quella zona, a meno che non ci sarebbero stati dei sospetti su di loro. Ma quell'idea venne quasi subito scartata perché qualcuno avrebbe comunque potuto vederli anche durante la sepoltura. La seconda opzione era quella di lasciare il corpo a casa, ma le tante videocamere di sorveglianza intorno all'isolato l'avrebbero sicuramente reso troppo pericoloso. L'opzione del finto suicidio sarebbe stata sicuramente la migliore. Liam riteneva che sarebbe stato facile anche affrontare tutto ciò che sarebbe venuto dopo, ovvero le indagini e le ricerche. Così i due pianificano ogni cosa, dalle risposte che Liam avrebbe dato agli investigatori durante gli interrogatori, fino a suo stesso coinvolgimento durante le ricerche di Sarah, per fare la parte del migliore amico preoccupato, in modo da non subire ulteriori interrogatori. Che cavolo, cioè se non è malvagità questa, cioè per dei soldi, vabbè. Era la migliore amica, mi sto incazzando. Allora, c'è una cosa che Liam non aveva pianificato, per fortuna, ovvero che il corpo di Sarah non sarebbe mai stato ritrovato. Nella mente di Liam, infatti, il corpo dell'amica sarebbe stato ritrovato su qualche riva del fiume dopo pochi giorni, e questo avrebbe confermato la teoria del suicidio. Tutto questo lo racconta Liam a Anthony in macchina, quindi mentre sono lì, Anthony ascolta tutta la sua storia senza mostrargli nessuna espressione di spavento e stando attento a non fare neanche, a non attuare dei comportamenti strani, perché era effettivamente in macchina con un assassino, e sarebbe potuta succedere qualsiasi cosa se non si sarebbe comportato nel modo adatto. Aveva paura, ma è comunque riuscito a mantenere la calma. E forse è proprio grazie a questo che Liam alla fine gli racconta proprio tutto quanto. Anthony fa dei piccoli commenti nella speranza che Liam continuasse a parlare e chiedesse ancora più informazioni. E infatti fa proprio così. Liam continua dicendo che quel giorno era uscito con Sarah. Sapeva che poi sarebbe dovuto andare a lavoro e questo sarebbe stato un ottimo alibi per lui. Ammette poi di non aver tenuto conto di alcune cose che avrebbero potuto rovinare l'intero piano. Ad esempio Liam dice di non aver considerato di quanto tempo servisse per strangurare una persona. A questo punto della conversazione il ragazzo comincia a descrivere particolari piuttosto macabri sull'umicidio di Sarah. Ammette di averci messo almeno mezz'ora per strangurarla e ucciderla. E dopo aver compiuto l'orribile gesto ha lasciato il suo corpo nel bagno di casa ed è uscito per andare a lavoro. Subito dopo, Preston si è intrufolato nella proprietà dal retro per evitare di essere ripreso dalle videocamere, ha trascinato il corpo della ragazza fuori e lo ha lasciato tra i cespugli vicino al recinto. A quel punto del pomeriggio doveva essere ormai quasi buio e nessuno avrebbe notato niente. Non appena Liam ha finito il suo turno, racconta, è tornato a casa di Sarah, facendo sempre attenzione a dove passava per non essere ripreso dalle videocamere, che infatti non l'hanno ripreso. Poi ha rubato la cassaforte contenente i contanti e ha messo il corpo dell'amica sul sedile del passeggero della sua stessa auto. Ha deciso addirittura di metterle la cintura così da far credere che dormisse, da far sembrare che dormisse. Liam continua dicendo al suo amico che i giorni precedenti aveva studiato minuziosamente ogni dettaglio su come guidasse la sua amica. In particolare dice di aver prestato molta attenzione al modo in cui faceva retromarcia per uscire dal vialetto di casa. Così, se la videocamera di sorveglianza l'avesse ripreso, nessuno avrebbe pensato che ci fosse qualcun altro alla guida, perché guidava esattamente come lei. Quindi Liam è uscito dal vialetto proprio come avrebbe fatto Sarah e ha guidato fino alla Route 35, seguito da Preston. Una volta lì, si è accostato sul bordo del ponte. Il piano era che, dopo aver gettato il corpo di Sarah, Preston avrebbe dovuto proseguire per un paio di chilometri, fare un'inversione a U, recuperare Liam e poi scappare. Durante l'intero piano, i due avrebbero comunicato tramite un walkie-talkie. Mentre Liam tentava di gettare il corpo di Sarah oltre il ponte, però si è reso conto che era davvero troppo pesante e non riusciva a farlo da solo. Tramite il walkie-talkie ha chiesto quindi a Preston di andare ad aiutarlo. L'amico si è quindi accostato dietro l'auto di Sarah e si è precipitato ad aiutare Liam. I due hanno poi lasciato le chiavi nel cruscotto per far sì che sembrasse un sui video a tutti gli effetti. La cosa spaventosa è che il ragazzo, durante l'intera confessione in macchina col suo amico, non ha mostrato alcun segno di compassione, di tristezza, di rimorso. Era come se stesse raccontando boh di una sua giornata tipo. Dal suo volto non traspare nessuna emozione. I got the FBI on my ass, too. About what? About killing Sarah. That's not even the worst part. The worst part of it is I thought I was walking out 50 grand, 100 grand in my pocket and she only had 10 grand. She goes to walk out the front door. I choke her out, drag her. My biggest problem was the dog and her dog lay there and watch as I killed her. Anthony ancora una volta riesce a mantener la calma, nonostante in quel momento fosse letteralmente nella stessa macchina di un assassino appunto. Fa comunque di nuovo qualche commento di poco conto in modo da non far destare sospetti e far credere in realtà a Liam che la sua storia non fosse niente di che, niente di impressionante. Poi dice a suo amico che avrebbe trovato il modo di recuperare i soldi per la nuova videocamera e di non preoccuparsi. Lo ringrazia comunque per la disponibilità e lo saluta. A quel punto i due si allontanano e Liam se ne va. Grazie a tutte le informazioni ottenute, Liam viene arrestato il 2 febbraio 2017 con un lungo elenco di accuse, omicidio di primo grado, rapina di primo grado, profanazione di resti umani e intralcio alle indagini. Mentre Liam si trova in custodia in attesa del processo, la polizia si reca da Michael Stern, il padre di Sarah, e gli racconta tutto quello che è successo. Ovviamente lui rimane completamente sconvolto perché si trattava di Liam, il ragazzo con cui sua figlia era cresciuta, con cui aveva condiviso tutte le parti migliori della sua infanzia e della sua vita, qualcuno che lei considerava il suo migliore amico e che aveva anche aiutato nelle ricerche dopo la sua sparizione. Michael era semplicemente senza parole. Poiché non c'era nessun corpo per il funerale, la comunità ha deciso di organizzare una celebrazione in suo onore il 15 luglio 2017, in cui sono anche state esposte tutte le sue opere d'arte e le sue fotografie. Ma Liam non aveva agito da solo. Insieme a lui viene anche arrestato il suo amico e aiutante, Preston, accusato di profanazione di resti umani, concorso in omicidio e ostacolo all'arresto. Preston, durante il processo, decide di testimoniare subito contro Liam in cambio di un patteggiamento. Dichiara che il piano iniziale doveva essere semplicemente un furto con scasso e che il compenso doveva essere appunto quasi 100.000 dollari. Tuttavia, il denaro preso a Sara ammontava malapena a 10.000 dollari e il patto era che Preston avrebbe ricevuto 3.000 dollari per il suo aiuto e Liam avrebbe intascato il resto. Il ragazzo in tribunale dice che si è sentito costretto a farlo per via della forte amicizia tra lui e Liam. Eh certo, siamo così tanto amici che se mi chiedi di uccidere qualcuno, perché no? Cioè, no, ok, magari non gli ha chiesto di uccidere, ok? Gli ha chiesto di fare questa rapina. Lui ha accettato, discutibilissimo. Poi si è accorto che non era solo una rapina, si è sentito obbligato a continuare. Perché? Comunque alla fine, Preston Taylor finisce per essere condannato a 18 anni di reclusione per i suoi crimini. E arriviamo adesso al processo di Liam. Il suo avvocato fa di tutto per far sembrare Preston un bugiardo e afferma che non esistono prove fisiche che Liam avesse effettivamente commesso il crimine. La cosiddetta confessione nell'auto di Anthony in realtà non era una confessione secondo lui, ma una sorta di audizione cinematografica per lanciare la sua carriera. E la tesi della difesa è questa, che decide anche di portare un testimone in aula, un certo Craig Hetzel Senior, che afferma di aver visto Sarah Stern camminare sul ponte alle 5 del mattino del 3 novembre, ovvero quando Sarah doveva già essere morta da qualche ora. L'uomo ha ammesso che gli è sembrato parecchio strano, ma non ci ha dato molto peso. Quando poi, giorni dopo, ha visto il volantino della scomparsa, ha pensato subito che non potesse trattarsi di Sarah in quel ponte i giorni prima. Era certo di averla vista vive vegeta, non poteva essere lei. Ovviamente questa versione comunque non regge molto a lungo. In primo luogo, era improbabile che con il buio l'uomo fosse riuscito a distinguere davvero il volto di quella persona, che probabilmente era lontana, camminava sul ponte, era improbabile. E inoltre il luogo nel quale ricordava di aver visto questa ragazza era diverso da quello in cui è stata ritrovata l'auto abbandonata. Comunque, in secondo luogo, l'auto di Sarah era stata segnalata e trovata alle 6 del mattino, quindi quasi un'ora dopo il suo avvistamento. In poche parole, tante cose non tornavano. La madre di Liam, comunque, durante i processi, continuava a negare il coinvolgimento del figlio. Per lei era semplicemente impossibile che il giovane avesse potuto fare una cosa del genere alla propria migliore amica. E questa donna sosterrà la sua posizione anche dopo la condanna. Tuttavia, dopo 5 settimane di processi, il 21 giugno 2019, la giuria dichiara Liam McAtasney colpevole. Il ragazzo però verrà condannato all'ergastolo dalla corte d'appello solo nel 2023, quindi 6 anni dopo l'omicidio. Liam sta scontando e sconterà la sua pena nella prigione statale del New Jersey. Ritengo che la storia di Sarah sia davvero triste sotto tantissimi aspetti. Anthony non si fosse mai fatto avanti. Se non avesse mai sospettato del suo amico, le indagini non avrebbero mai preso una svolta. Liam probabilmente non avrebbe mai confessato nessun omicidio. Se avesse mantenuto il silenzio, Sarah non avrebbe ottenuto neanche un briciolo di giustizia. Il suo corpo, tra l'altro, non è ancora stato trovato, non è mai stato ritrovato e probabilmente non verrà mai trovato. Si pensa ancora che sia stato trascinato dalla corrente nell'oceano, dove probabilmente è scomparsa per sempre. È davvero molto triste perché quello era il suo migliore amico. Lei si fidava, si fidava ciecamente, gli aveva raccontato con gioia, con entusiasmo del suo ritrovamento di questi contanti, lasciati da sua madre, e lui l'ha ripagata così. Questa era la tragica storia di Sarah Stern, ragazza uccisa dai suoi migliori amici per 10.000 dollari. Fatemi sapere le vostre considerazioni riguardo questo caso così triste perché se mi metto a dirle io mi bannano, mi bloccano. Intanto, ai pochissimi che rimangono fino a qui, anticipo che presto parleremo di una storia molto simile a questa per alcuni aspetti, ma avvenuta in Italia. Il che non è una cosa bella, non so perché sto sorridendo. Spero quindi che rimarrete nei paraggi, per cui se vi ho incuriosi di video, vi ricordo di massacrare i pulsanti iscriviti. Adesso parlo con te. Sì, proprio con te. Se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare ti consiglio questa storia da brividi, oppure questa playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo. Vi ricordo infine di seguirmi anche su Instagram se volete farvi i cazzi miei, venite dai, no, fidatevi che sto pubblicando un sacco di roba. E niente, vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo venerdì, con un altro file. Ciao!